ciao a tutti e benvenuti in questo video è arrivato il momento di attivare gli abbonamenti anche sul mio canale youtube io ho attivato due tipi di abbonamenti un abbonamento per simpatizzanti da 0,99 centesimi e un altro senior da 4,99 li ho distinti così 0,99 e 4,99 perché poi penso che col tempo magari farò dei video dedicati per i senior un pochettino più dettagliati per quanto riguarda il mio lavoro mentre il simpatizzante per dire alessandro ci piace quello che stai facendo sono un tuo iscritto condivido quello che tu stai proponendo su youtube e quindi da simpatizzante mi fai simpatia e ti do questo piccolo riconoscimento è un caffè che ci stiamo prendendo assieme con con chi mi segue nel canale mentre vedi senior poi ci sarà magari qualche video un pochettino più dettagliato più particolare e comunque per entrambi ci saranno dei video dedicati le chat dedicate praticamente anche quando farò le live avranno il loro logo da abbonato e magari un piccolo occhio di riguardo da parte mia nelle risposte ai commenti basta non voglio dilungarmi troppo questo video era soltanto per presentare appunto gli abbonamenti che ho attivato nel canale già ci sono alcuni iscritti che sono diventati anche abbonati spero che in tanti vi abbonerete al canale dopodiché grazie a tutti e alla prossima da alessandro l'estivo